Gli alimenti che ringiovaniscono il cervello, prevengono Alzheimer e demenza senile Una dieta povera di nutrienti influisce negativamente sulla salute del cervello, riducendo la memoria e la capacità di attenzione e apprendimento. . Inoltre, una cattiva alimentazione può provocare sbalzi di umore e influire anche sulla capacità di interagire e comunicare con gli altri. E per questo che è importante alimentarci in modo sano, ecco gli alimenti che ringiovaniscono il cervello. . 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 Nei legumi, nei cereali integrali e negli ortaggi a foglia verde. Anguria, mirtilli e more sono ricchissime di antiossidanti associati a benefici importanti per il cervello. Cannella. Ha unazione neuroprotettiva che allevia gli effetti negativi di una dieta ricca di fruttosio e grassi sul cervello. Acqua. Si suggerisce di berne più di due litri al giorno. Grazie.